Benvenuto, Cersus Drive anche stasera, Pippo, con Pandora stasera. Ci vediamo a un prossimo video. Roar! Grazie a Matte, grazie al Bonobo! 57 mesi, Bonobo, bentornato. Bentornato, Bonobo. Sei carico per questi cinque anni? Vedi da non perdere la stricca, Fabrizio, mi raccomando. Steewid, è LOL Phantom. Comunque, letteralmente, fandom, tu letteralmente scrivi, cazzo, ne so, SingedWiki ed è il primo risultato che ti appare. Sì. Noi andiamo di Everfrost, il Seraph, perché, come vi ho detto, ti fa recuperare HP, quindi ci sta. Sarebbe bene anche il Frozen Heart, paradossalmente, perché siamo contro Jax, V, Miss Fortune, Kintin, ci sono quattro autoattacca su cinque, quindi letteralmente anche il Frozen Heart sarebbe tanta roba. Però, se ad essere sincero, per avere quel po' di abilitesti in più su Singed, non è che sia tutta questa interazione. Brumble Vest Fiesta, assolutamente sì, però non so se voglio rientrare così, preferisco il Morello, se proprio devo fare. Voglio andare a P e HP. Questi due buchi, dove sempre si infilano le cose dentro. Però anche la Crown in realtà mi ispira che l'Everfrost è l'Everfrost, cazzo. Troppo forte l'Everfrost. 1% Wayne Speed, ogni oggetto. Chapeau. Singed, Singed, Allora, in teoria, la pronuncia ufficiale dovrebbe essere Singed, però a me non frego un cazzo. Qua ho messo scarpe, non dovevo andare di scarpe, cazzo, ho preso il Predator, ma sono un cretino perché ho fatto tutto all'ultimo secondo. Dovevo mettermi biscotti e Time Warp Tonic e vabbè, è andata così. Ce ne faremo una ragione, ragazzi, come faremo a vivere adesso. Però parto di Doran's Ring, non di Tear of the Goddess, mi sa. Perché questa mi dà... Sì, parto con questa. La Conassenso... Ah, guarda, il team nemico è fatto per fare danno, quindi in realtà la Crown ci starebbe anche. È che l'Everfrost è troppo bello come oggetto. Ma Akali che start a die? Due rune in meno in pratica. Beh, oddio. Questa non è una rune in meno, questo sono praticamente per l'attesa ti dà 300 gold gratis e 10 di movement speed gratis, che in realtà non è male, cioè una volta che lo ottieni 10 di movement speed non fanno schifo a nessuno. Come neanche 300 gold, ovviamente è come avere una kill, sono i soldi di una kill. Però di certo non in coppia con il Predator, però che ci volete fare? Ripeto, ho fatto le rune proprio all'ultimo secondo. La mia idea era quella di mettere il Time Warp Tonic, sarebbe stato mille volte più forte, vabbè. Un po' di puzza, così. Che Jax è già lì a romperi i coglioni. Vabbè. Davvero, Pippo, hai preso la maglia in mio store? Grande! Io purtroppo ce l'ho poca attenzione, lo so, ho un mio difetto. Ho poca attenzione allo store. Jax. Ottimo elicottero, però. Però, però, però. Vabbè, sti cazzi, dai, almeno ho anche le rune sbagliate, così non mi accusano di Smurf. Ah, lui ce l'ha invece il Time Warp Tonic. Guardate di quanti HP si è fatto in un attimo. Guardate che povera che fa il Singed in early game. Ok. Io adesso ti metto un po' di veleno da queste parti. Eh! Ma sta storrettata, con che velocità me l'ha tirata? Vabbè, andrò back qua, mi sa. Non vedo perché rischiare. Ecco qua, caro Jax. Arrivederci. Ottima idea. Eh! Dai, level up, vabbè. Mori dai minion, mori dai minion! Oh, GG. Stai fuori lì. Mori, che aiutami a pushare qua. Scimmia. Vabbè, Mori, però pure te non sei per niente sveglio. Mori, ragazzi, è una delle persone più rincoglionite che abbia mai visto, posso dirlo? È una delle persone più rincoglionite che abbia mai visto. Però, mi piace. Grazie, Gabrix, per i sei mesi! Questo Jax ha 20.000, di cui K e KW. Bella, bro, grazie mille. Dai, vado con questo. Mamma, quanto cazzo ho rincoglionito sto Warwick. Cioè, i riflessi, veramente, di mia nonna che ho 86 anni. Grazie, TM, Vrapi, Twitch, per il ragazzo del Prime. Benvenuto, bello. Ecco qua, postura sempre dritta, mi raccomando. Hai visto, caffa? Ma stasera, cioè, oggi pomeriggio, game di qualità proprio. Jax, scappa! Ottimo, Jax. Due, uno, e... Vabbè, qua. Buono così, voglio dire. Oh, what? Cioè, io, io... Non commenterò quello che è successo. Dovevo flipparlo ad andare dall'altra parte? Invece l'ho flippato e il mio passaggio ci è andato addosso. Vabbè, fantastico. Almeno non... Non quit. Che non è stato usando? Rune di merda. Che sono completamente sbagliate. Le ho sbagliate, purtroppo, quindi... Ecco, avessi avuto le rune giuste, qua sicuramente dai modo diverso col Predator. Ma quella è un'altra storia. Oh, ma tutti con la goccia, ma che è? Ma... LEMG889. Goccia Caitlyn. Vabbè. Le rune non ve le mostro. Se sono sbagliate, non le guardate, fine. Molto semplice. Che cazzo. Sempre chiedere le rune come se fossero perfette. Fa schifo queste rune, le ho sbagliate. Cosa vi serve vederle? Voi direte, fieri, ma così impariamo anche noi a non sbagliare da te. No. Cazzi vostri. È quasi tempo. È Dio Cristo. Vabbè, è tempo del test del qui. Non passato. Test del qui non passato. Oh, bro, ce la puoi fare? Niente. Venga por qua, signore. Venga por qua. Ok. Cioè, per caso anche una signorina da queste parti? Oh, eccola. Eh. Eh. Tic. Tic. Eh. No, ma non ultare, Jesu. Tranquillo. Beh, voleva tenerla giustamente per il prossimo round. C'ha ragione. Ho le rune! Finalmente. Ho finalmente le rune, ragazzi. Assai contento. Ho finalmente le mie scarpe col Predator. Minuto nove. Beh. Quattro chili una assist. Oddio. Jesu paga 500 euro a due. Ah, è per quello che vuole risparmiare. Vabbè, c'ha ragione, cazzo. 500 euro a ulti. Uno ci pensa anche due volte. Signori di Riot, per favore, abbass... Eh, vedete, è morto e c'è... Vedete, abbassiamo le tasse sulle ulti, per favore. Che poi la gente nel mio team non ulta. Perché costa troppo. Eh. Ah, sì, Jax? Vediamo, Jax, vediamo. Ho la mia scia. Eh! Devo ghostare, che è meglio. Bene. Postura, subito! Beh, del resto ero tornati lì in da ben tre secondi. Ci stava quel gank. Ok. Ma non hanno gradito la puzza. Ma adesso gradiranno. Vedrete. Cos'è che vuoi farmare, tu? Eh... Avevo il gas spento, prima. Molto male. Sparisce. Sparisce. Cioè, V probabilmente che si sta facendo l'herald, però... Di certo con un terzo di vita non vado lì a facecheccare e dire... Ehi, V, stai facendo l'herald per caso? Non puoi, eh? Io non te lo vieto. Potere dell'Everfrost. Oddio, anche Akali ho visto che si sta muovendo. Aieva, supporter! Trash noob supporter! Giusto. Come fa ad essere un livello... Come fa ad essere un livello sotto? Una bella Q, Morgana? È un bot. È chiaramente un bot, non si è fatta neanche il Black Shield. Però ha fatto una kill. Interessante. Noob supporter. Luke, Zero Help, Trash noob, Morgana. Trash noob supporter, ragazzi. Ricordiamolo. È morta V. Penso che l'abbia fatto una Q in punto di morte... Proprio sotto torre. Sì, però fai veramente schifo anche te, Jinx, eh. Vedete un po' di veleno... E via. Sono nascosto, sono nascosto. Adesso arriva Jax arrabbiatissimo, guardate. Cosa stai facendo con i miei Minion? Oh! Oh mio Dio! Mi sono emozionato tantissimo, ragazzi. Lasciate che ve lo dica. Guardalo, guardalo come si arrabbia adesso. Vuole killarmi, però lo stesso... Dai, ma stanno intando apposta questi. Beh, non sono normali. Ecco qua. Minion o Singed. Minion o Singed. Minion o Singed. Guardalo, guardalo. Minion o Singed. Ecco qua. Ha scelto Singed. E ha perso il carretto. Minion o Singed. Questo è il dilemma. Ha scelto Singed. Ha scelto Singed, ragazzi. Adesso ho capito perché ha scelto Singed. Vabbè. Bella per Caitlyn, che devo dire. Giustamente che itinerà qui. Così, per sport. Anna segna. Minion o Singed. Ottimo titolo per l'uncut. Attenzione. 900 gold in tasto a Warwick. Tanto è Warwick, quindi non serve a saper giocare. E sappia giocare o no, non cambia assolutamente nulla. Grazie Nick Frigerio per il Prime. Benvenuto, Nick. Ragazzi. Minion o Singed. Voi cosa preferite? Questa è la domanda. Questo è il quesito. Dai, facci delle rune. Eccole, ragazzi. Queste sono le rune sbagliate. Perché sono sbagliate? Perché il Predator e il Magical Future non si mettono mai insieme. Perché finché non ti arrivano le scarpe, il tuo come non avesse una runa principale. Questo è il motivo, fine. Ed erano sbagliatissime perché avrei potuto mettere due rune che erano molto meglio. Cioè, se non avessi messo il Magical Footwear, avrei messo il Time Warp Tonic che avrebbe aiutato tantissimo in landing phase. Infatti Jax ce l'ha. Mi avrebbe ruotato tantissimo in landing phase. Mi avrebbe dato movement speed extra. Mi avrebbe dato heal istantaneo. E avrei potuto anche usare il Predator. Quindi più volte in cui sono morto da Jax, morto da V, eccetera, ci sarebbe andato tutto in modo diverso. E quello mi ha fatto un po' arrabbiare. Sparisce. E basta. Quindi avevo un po' rosicato perché la mia scelta di rune mi è andato un po' puttane l'early game, ma sti cazze. Cioè, come ho già detto... Aiuto! Sì, ma che due coglioni! Cioè, se vuole ammazzarti, ti ammazza quel champion. Non c'è niente da fare. Le puoi piazzare questo, le puoi, la puoi flippare, bloccare... Non c'è niente da fare. Quando parte il punta e clicca, è finito. Il punta e clicca, sì. Vabbè. Abbiamo fatto sto oggetto del cazzo. Finalmente possiamo andare avanti con gli oggetti più forti. Vi parcheggiata. Cioè, io... Ragazzi, io ho quattro morti, lei ha quattro kill. Jax ha una kill. Fatevi due conti. Fatevi due cazzo di conti. Come cazzo fanno sti figli di puttana ad essere 6-1? Che stanno giocando... Sembra, Dio Bono, l'Ultimate Bravery Challenge. Andava di moda quando ho iniziato a giocare io. Ah, vabbè, ma questo ovviamente è un deranker. Cioè, Ginos in chat e mi fa un check. Come cazzo fai a perdere contro sta roba qua? Al minimo c'è V all'herald. No, è laggiù. Meglio se ci faccio un sa... Oh, Gesù, ragazzi. Perché? Perché? Vai, più tardi, mi raccomando, quel windwall. Bravissimi, ragazzi. Un applauso. Ma cosa sto vedendo? Vabbè. Tranquillo che qua... Col cazzo che sopravvivi col cazzo. Parisci. Ma arriva Singed, mi sono rito i coglioni. Oh no, c'è Caitlyn Tank col suo teleport. Ah. Ma io da cosa sono perma fottutamente slowato? Cioè, va bene Red Buff. Ma cos'è uno slow dell'80% quello? Di 4 secondi. Dal Glacial, minchia. Ma funziona... Ma dovrebbe essere ancora così. Non dovrebbe slowarmi in quel modo. L'ha reworkato. Oh. Vabbè. Buonasera, Luca. Glacial Decade. Musila... Beh, quando è che mi avrebbe immobilizzato? Per proccare il Glacial, scusate. L'ha reworkato. L'ha reworkato. Tu, Gears, dici nessun The Ranker. Manco Jinx. Che sta palesemente trollando la partita. Ed è a fare avanti e indietro in base. A livello 8. Vabbè, quello è sicuramente lo sta facendo apposta, però. L'ha di Akali slowa. Cioè, lo shuriken che ti... Dove ti salta addosso ti slowa. Quello lì? Tanta gente c'è. Troppo. Un attimo, valutando. No, andiamo, ce ne basta. Cioè, volevo dire. Vabbè, tanto. C'è solo summoner. Boh, Jinx lo fa po'. Jinx è un The Ranker. Non mi frego un cazzo. Jinx è chiaramente un The Ranker. Vabbè. Senti, perché sei frustrato, sei un The Ranker per me. Che vuol dire? Stai perdendo contro Miss Fortune? Stai perdendo contro Caitlyn con sta roba qua? E perdi. Per me non... Sei un The Ranker, punto. Non c'è altra scusa per perdere contro una roba del genere e essere tiltato. Per me non è legit, fine. Guarda. Cioè, contro quel cesso stavamo perdendo, ragazzi. Contro quel cesso lì stavamo perdendo. Non basta fare schifo. Non me la racconti giusta. Ah, è Warwick. Bravissimo. Cioè, ragazzi, guardate. Che cazzo è sta roba? Come fai a perdere una roba del genere? Siamo tutti sto doppio ruby crystal a destra e sinistra. Boh. Vado a fare riduzioni di cure anche. Io lo scrivo. Buy healing reduction, guys. Così per sport. La prima volta in cui in un mio game vedo le taglie degli obiettivi dalla mia parte. Miracolo. Dobbiamo essere sotto di... un miliardo di gold. Ecco qua. Bellissimo flash, complimenti. Andiamo a prendere questo. Ecco. Ah, come siince il fight se c'è il Singed. Ah, come siince il fight con il Singed, con quella che trolla. Eh sì. Oh, soldi. Sai che vado di Morello prima di buildarmi a il Rely. Perché c'hanno troppe cure e a nessuno frega un cazzo a quanto pare, quindi... Prima di Morello poi andiamo di Rely. Gianpietro passa il mio fucile. Eh! Ottimo flash. Tempo di mettere il cazzo di paraocchi qua. Perché mi sono rotto le palle. Report HFC. Ma chi se... Ma tanto che ci si... Ma vedete che è un The Ranker? Dai! Questo è The Ranking. Ah, no, che. Ah, va bene. Mmm. 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 Grazie Yasuo Oddio Bene E poi qui ragazzi c'è la playstation Webcam Ah è fight senza di me Ma perché Yasuo non fa un cazzo Non ha attack speed non ha niente Io non capisco C'ha un oggetto e le scarpe Basta Ci sono full build che ha un oggetto Ma Quanto più mi dà sto cesso qua Non me lo dice Ah beh sì ce l'ho scritto sotto Scusate 31 Beh 31 Non è male Non è per niente male Su Singed è molto forte Singed è straforte Postura Grazie Squid Chungus Per il Prime E ferlito Grazie ragazzi Non vedo perché incazzarsi Allora Se non ti piace la live Non seguirmi Non vedo perché seguire la live It's nearly time Zaccetta Dov'è? Dov'è? Vado lì Parcheggiato sotto torre Teniamo il gas acceso Hai ragione non rock E quindi Se giochi con gli ero Non puoi pretendere Avere qualcuno in mani Ok E quindi Dove volete arrivare? Che devo stare zitto Fare tutta la live in silenzio Beh non è male Ottimo intrattenimento Un bel modo per intrattenere il mio pubblico Dopo ci provo Far tutta la live in silenzio Un bel modo per intrattenimento E quindi An ally has been slain An ally has been slain An ally has been slain Bene, sono tornato in vita Adesso posso tornare a parlare Di me ovviamente, non agli altri Degli altri non si può parlare Perché sono iron La prendo, la prendo Ok, qualcos'altro per la movement speed? Ce l'hai? Ok Ho stato zitto ragazzi, va bene? Va bene il fatto che non ho parlato? Va bene così? Vi è piaciuta la live? Spero che ci sia piaciuto Non è stato zitto ancora, c'è ragione, può essere Molto intrattenimento, sì Mi ha fatto ridere? Beh, l'importante è questo Cioè se gioco con gli iron Non posso Commentare il fatto che siano scarsi Il fatto che sbaglino Il fatto che non abbiano oggetti Il fatto che trollino tutta la partita Il fatto che non facciano danno Il fatto che non buildino le cose giuste Non rock, va benissimo, va benissimo Vada, a me non frega un cazzo di quello che pensi tu Non me ne frega un cazzo anche di quello che vuoi dire Non me frega assolutamente niente Sono sei anni che faccio quello che sto facendo E non Non sarà di certo il Ah beh, se giochi con gli iron Non puoi pretendere Tanto sono sei anni che me lo dice la gente Non è che tu vuoi dire una cosa diversa dagli altri Tu pensi voler dire una cosa diversa dagli altri Ma non è così Non è così, te lo assicuro Non stai cercando di dire una cosa diversa Da quella che la gente mi dice Da quando ho iniziato a fare quello che faccio Te lo posso assicurare Quello che la gente vuole è Fieric smarfa Gioca con gente scarsa Si lamenta che la gente è scarsa E quindi fa schifo Non deve farlo Ed è quello che mi viene detto da quando Ho iniziato a fare quello che faccio E non siete diversi ragazzi Nessuno di voi è diverso dagli altri Che mi criticano da sei anni Ve lo assicuro Siete la fotocopia spiaccicata l'uno dell'altro E a me va bene così Accerita tu quanto fai pena Si è confermata la provenienza Ah fantastico Beh Beh Ragazzi 900 specchi intanto Vabbè 900 persone che mi guardano fare pena ragazzi Oppure fate pena come me Fate tutti pena guardarmi C'è scoperto Aia Aiaiaiaiaiaiai Mi fa ridere che una volta A me interessava pure il parere della gente A me interessava Non volevo che passasse il messaggio No ma non è come sembra Eccetera No 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 è esattamente come sembra È esattamente come sembra Io faccio il cazzo che mi pare Nell'elo dove mi pare Se la gente fa schifo mi lamento A prescindere dell'elo Delle persone Fine Esattamente come sembra Nulla di più Nulla di meno Nulla di più Nulla di meno Caffa 1997 Cirdix 100 Sempre detto che i bolzanini rovinano questo paese Grazie caffa dei bizze Crux grazie i quattro mesi Ben tornato Ben tornato Cioè potete prendere anche le mie parole Come una missione di colpa ragazzi Come quello che sempre La gente vuole farsi sentire Ovvero che io Gioco in low elo Perché in high game Cioè in high game Insomma Nel mio vero elo Che chissà qual è Non riuscirei a fare nulla E di conseguenza Mi diverto a bullizzare La gente allo elo Crearci contenuto sopra Lucrarci sopra E anche prenderli per il culo Ecco Ho detto tutte le verità E adesso Smetterà di seguirmi la gente Per il fatto che ho detto queste cose La gente smetterà di andare al circo Visto che gli animali vengono maltrattati Sono sicuro che sarà proprio così Sono sicuro che sarà proprio così Sono sicuro che sarà proprio così ragazzi La gente smette di andare al circo Perché gli animali vengono maltrattati Non è che dicono Ah vengono maltrattati Vabbè però mi piace il circo Quindi ci andrò allo stesso Però nel frattempo mi lamenterò Che vengono maltrattati gli animali E non voglio paragonare gli animali Per rispetto degli animali Che non passi il messaggio sbagliato ragazzi Grazie bello per i quattro mesi Bentornato Grazie mille bro Come ti senti davvero appena Eeeh Tu Tranquillo eh Tranquillo eh No scusate non posso dire nulla Sono Iron è vero Io avevo dimenticato la clausola Oppala Mi sento offeso però è vero Ragazzi Io ho detto tutta la verità Adesso potete scegliere Se continuare a guardarmi Consci che Io gioco lo elo Per prendere per il culo E bulizzare la gente scarsa E lamentarmi se la gente è scarsa Oppure andarvene Continuete a guardarmi O ve ne andrete Potete fare la vostra scelta Tanto chi mi segue da sempre Chi mi segue da tanto Lo sa com'è la mia live Lo sa com'è la mia live E la gente che entra Eeeh ma questo Eeeh ma quell'altro E perché appena è entrata in live Non ha la minima idea Di quello che porto Come lo porto Perché lo porto Eccetera eccetera Non ne ha proprio la minima idea E quindi è buona solo di lamentarsi Dunque lo stabile Mi sento super squish Effettivamente lo sono Postura Oh Perché bisogna dirlo per capirlo Ma io ragazzi Non è che la gente pensa Che tipo me la prenda Io lo faccio anche un po' Per lo spettacolo Il Arrabbiarmi Discuterci Eccetera Cioè non pensate Non pensate che io Tipo non ci dorma la notte Perché la gente mi dice Che Eeeh Sono penoso Perché questo Perché quell'altro Lo uso per farci spettacolo Secondo Baron Per i nemici Beh del resto 3-13 0-5-3-6 Ci può anche stare Giustamente Che si prendano Un bel Baron Ah e si va Eh si Iniziamo a togliere Qualche Baron qua Allora non togliamo Per più un cazzo Perché Warwick Si è fatto shottare Come un cretino Ma sembra che non subisca Un danno a questi Vabbè Come fa a essere 0-5 Alla taglia Perché sta solo farmando E i nemici La stanno completamente ignorando Lasciali perdere Pieri Qui almeno trovo un posto Dove posso ridere di Loli Invece di flammarlo Grazie Sono scarso per 5 mesi Bentornato Ebro Lo so Lo so Grazie mie 5 mesi Bello Io ormai non sto orrendo E se dovrebbe un'ora e mezza Sta partita Vai un bel miss Della cum organa Ah invece no Mercato che è V Quindi che tu la hit O no Non c'entra nulla Boh master assassino Adesso ci potrebbe stare In realtà Cambiare l'oggetto mitico Ci potrebbe stare Ma questo invece No Vero Voglio andare di rift maker Dovrebbe essere buono Effettivamente Oppure di maschera Anche Proviamo un rift maker Dai Per vedere come è tanto Abbiamo i soldi Per fare un po' il cazzo Che vogliamo Cioè doveva essere Troll Pick eccetera eccetera Ma Ogni tanto Anche quelli belli Ritorno Meno male Arc Arcade Come stai Bello Grazie mille Bella Ben tornato Ci vado io Mo arriveranno in 50 State a vedere Il microfono Non c'è Perché è andato a puttane No 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 tesoro No 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 Vabbè Vai vai andiamo Ma che sono sti danni qua Oh Vabbè Morti tutti Eh Vabbè Quadra kill Bravi ragazzi Jinx chiude Ma dai Vabbè Ma dai Jinx C'hai anche Come si C'hai il drake Potevi prenderlo Vabbè Tornava in vita Vai Asuo Jinx è MVP Ma che cazzo sta succedendo Vai Asuo Vai Bravo Yasuo Difendi Difendi Yasuo Questo game qua Va Preservato Joseph Grazie al Prime Bello Benvenuto Benvenuto Joseph Ma Stavo scri... Niente Ho buttato la ult Vabbè 60 e 70 secondi Mannaggia a me Guarda Io Già che abbiamo la soul qua Eh Sta soul è forte Ragazzi Oh comunque Jinx Cioè Sta venendo palesemente Ignorata Da tutti E quindi Ha Pramente Pushato Qualsiasi cosa Ma Cioè ma Quanto mi ha spinto indietro Ragazzi Con quel pugno Quanto mi ha spinto indietro Ma che è La prima kill di Jinx Guarda la taglia è giustificata Oh no ma sembra Cioè mi ha rispedito indietro Dentro alla ultima cosa Vabbè abbiamo perso Comunque Che bella partita Voglio dire Io non ci credo che comunque Qualcuno di loro non lo faccia apposta Non ci voglio credere Possibile Impossibile ragazzi Impossibile Vabbè Bello game Perché abbiamo fatto Nexus Poi invece Non si è riuscito a farlo Poi non era mia idea Morirci Però Non so cosa sia accaduto Quando mi ricordo Passo a rinnovare Grazie Marco Dei dieci mesi Bentornato Bello Bene Quasi 104 mila danni Quasi Kini Cioè il mio team si Non hanno giocato Effettivamente C'era proprio Un'altra partita Loro giocavano A World of Warcraft Ma sapete che c'è Tempo F***o